In questo tempo insieme dove possiamo godere di preghiera, di parola e di tempo di condivisione. Che grande mancanza Signore nel mio cuore non aver potuto vedere tutti i miei cari fratelli. Questa per me è una grande gioia, poter vedere ogni singolo fratello da Cesena a Rimini. Io ti ringrazio perché solo tu puoi veramente fare tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora diamo il benvenuto a tutti i fratelli, anche altre persone che si stanno aggiungendo alla famiglia del Signore. Cari noi vogliamo fare una bella cosa adesso. Adesso è il momento allora io vi do adesso voce di nuovo però per un motivo ben preciso. Oggi è il compleanno di Aimone o di Aimon che noi diciamo più Aimon e noi vogliamo cantare. Dov'è Aimon? Adesso lo troviamo. Ecco qua Aimon! Allora Aimon quanti anni? Quanti anni? vuoi avanti? Un poiv'è... x2 assi ci siamo Allora, Lucitania, tovesseia, verso tocatè. Allora, Lucitania, tovesseia, verso tocatè. Allora, carissimi, ecco qua anche Alberto che è... Allora, Lucitania.